Maladi, maladi proprio Audio, audio, audio Giuliani dalle luci Non mi chiedevi a farlo anche voi Andrea, quello che sapevo fosse buono Sì, Andrea, io mi fidavo solamente di lui Perché aveva fatto la tasca ed era salito E l'ha trovato All'inizio Sì, 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 ma volevo dirlo No, 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 no Penso che si sappia Posso dire dove ha trovato il cuore Che qualcuno di Calumni, non ci sono sento Parla pure Sport Allora, avete presente dove si fa lo Scanderno? Nella stanza sinistra Sì Ah, ok, quindi tutto a vostra Però c'erano le luci, quindi non ho visto Sera proprio in quel punto lì Però mi ha dato il report, quindi diciamo che ragionano Ma io stiamo parlando di Mad, giusto? Eh, sì Un po' più sinistra, però Un po' più sinistra Laboratorio, quindi Ho ragione Dove c'è il telescopio, là? Ok, il telescopio Ma chi c'era il telescopio? Io, MC, Caio C'ero io, sì? C'era? Boom, c'eri? No, io sono andato a fare benzina Non c'eri? Allora c'eravamo io, MC e Caio C'era un colore scuro Non mi ricordo Per questo pensavo Bravo che era scuro Allora, io quando sono saltate le luci Ho perso Mirage che stavo seguendo Io perso E sono evidentemente passato dall'altro lato Per andare alle luci rispetto a Mirage E mi sembra di aver incrociato Paninaro Sì, io sto facendo la tasca Quella dove devi scherci Dove devi, scusa? Quella dove devi tirare giù la leva Ah, ok, ok Sì, sì, credibile Cosa? La leva dove? In oxigeno Ah, ok, in oxigeno, va bene È credibile perché Abbiamo sospetti, quindi? Eh, sospetti sono una doppia kill Da parte di Oritio e Ne Sporti Hanno fatto uno di due chiamati a labor Quella è l'unica cosa che mi viene in mente Non ho altro Beh, l'unica anche Ma c'è stata anche una kill in luci O c'è stata anche una kill in me? No, no, no In luci non c'è stata nulla In luci non c'è stata nulla Io non so C'è stato solo un casino perché Tutti facevano le luci assieme No Ah, basta Se non avesse Non avesse tipo Rispetto diciamo le luci Avrei capito Chi era il killer Però vabbè Perché non c'era ancora Io andrei su Boom Eurition Così Io schiferei per ora Però Si va, si può schifare Però per me sono loro due Non sono io Perché No, no Ma va bene Ti dico i miei dubbi Ti sto Non posso neanche difendermi Ora Dunque vedo che la tradizione Non finisce mai Cioè votare almeno uno Deve votare Eurition Così si incazza Sì, sì Io sto per urlare Ma lì mi ha votato 50 secondi prima Proprio Stupato Proprio Non si Addio amici Addio amici Addio Ecco Mamma mia Non era sporti L'ho visto dalle telecamere Sono corso a riportare Uh, anche un collo è morto Oppa Sono veloci, eh Rascini totali Ah, io ho visto Pianinaro Esatto Pianinaro che quest Stavi facendo Visto che ti ho visto La quest Dimmi qua le stai facendo Adesso L'ultima che ho fatto Era quella Da Mi sembra Forse una trevella Dove Quattro Ok Ok Mi lascia Puoi garantire Caio? No Però voglio chiedere Una domanda Voglio fare una domanda A Eurition Sì Puoi garantire Qualcuno? Lollo Perché Era con me Lì a vedere Le Telecamere Vuol dire C'ero anche io A guardare le telecamere No Io garantisco Perché questa kill Che non è stato Lollo Non mi interessa Della kill Hai visto qualcuno Fare task visibili? Eh Dobbiamo votare Sì Te Che facevi il cannone Bene Ragazzi Se volete Io ho lo scandal A fare Non si può dire Paninaro Mirage Sono buoni Io direi Che Dimmi abbastanza Una safe call Qua È buono Ma Secondo me Non mi ha visto Vi dico La dinamica Delle cose Boom ha visto Sporty Pensava che Sporty Avrebbe sparato Quindi Boom ha sparato Lui A prima Facile Esattamente Come è andato Il problema È che Se filiamo la call È la fine Certo Poi ovviamente Si è filato Vediamo Un po' Per me è un altro L'altro Se si cago Un po' Ah Addirittura No Assolutamente Eh O se di nuovo L'inquistore Oppure se oggi Sei in forma Per sbagliare Le call Rondo Caio L'ho visto Parola Quest Accanto A telescopio Qual è che sta A sinistra Di telescopio Ciao Silvietta È quella Del Dei samples Che devi anche Mollarla lì Ma magari È sbagliato Scusa Entri nel corridoio C'è il telescopio E a sinistra C'è una quest Ah ok Ho capito Un monitor Grande Ah quella Miraggio Miraggio E chi votiamo Io farei Voto Paninaro Anch'io farei Boom Ma perché Non lo sta Garantendo Ma era l'unico In zona Quando è morto Sport A me Puzza anche Wildkeeper Un po' Perché non gli ho visto Fare niente Che avete votato Avete votato Paninaro Paninaro Boom Che Paninaro Vai a finir Nella lava Tra un po' Ti segue Lo streamer Pua Pua Hai risposto Corso di boom Scusa qui Troppo È la Paninaro Oh fuck Pua 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, no, non puoi essere. Perché non te, Caio? Potrebbe essere venite, perché eravamo tutti e quattro istanze. Dove sei, Caio? Anch'io, un'istanza. Aspetta Mirage, un attimo, l'hai trovato, tu hai fatto... No, ho premuto il bottone, ho premuto il bottone perché ho guardato VIT Vitals perché pensavo... Ok, allora... Aspetta, aspetta, sono andato a fixare le luci e c'era già Caio lì che le ha fixate lui alla fine. Sì. Però non venivano fixate, io ho visto in diretta... Eravamo tutti chiusi in tunnel. La morte di Paninaro, eh, chi c'era nel tunnel? Io, Eurition, Caio e Paninaro. Sì, però... Eurition dove è andato? Scusa, Caio, poi ti faccio dire, scusa. Eurition dove è andato dopo? Io ho ragione di credere che sia Eurition perché mi è stato appiccicato e penso che mi voleva tagliare la testa prima che potessi chiamare il bottone. Ma non ne sono sicuro, questa è un po' la paranoia che parla, eh? Esatto, adesso ti sto per dire una cosa che ovviamente tutti quanti diranno, ah, allora è Caio. A un certo punto voi due siete andati via e siamo rimasti a Paninaro. A quel punto sono andato via. Io non sono mai andato via, dove? Insieme a Eurition, siete andati verso il tunnel, mentre Paninaro è rimasto là, fermo là. Non è vero, Caio. Sì, sì, è così, Mirage. No, io ho fatto la task dove devo mettere le cose dentro, le luci erano spente e io non ho... No, si stavano spegnendo, io non ho più visto nessuno e infatti mi sono visto dove cazzo sono tutti e sono corso verso su. Verso su non ho incrociato nessuno, sono tornato giù, ho double beccato perché pensavo che avesse sgozzato giù, non c'è stato nessuno. Poi mi è passato uno sopra, è arrivato un altro che era wellkeeper, non so che mi sia passato sopra. Ma c'è stato un casino durante le luci. No, durante le luci sì, questo è vero. Ma Eurition tu l'hai visto fare cosa? Non l'ho visto fare niente, non l'ho guardato, anche perché avevo la mia task là dentro. Quindi non ho visto bene. Io non avevo tasca in quella zona. È particolare perché quando sono partiti le luci ho visto... Mi passavano 25-30 secondi prima della call. Secondo me stavo cercando di sgozzare. No, ti potevo sgozzare nel tunnel prima. Secondo me è stato Caio. Ah, bravo Caio. In particolare perché avete skippato? Nice. Non mi fido di te, però non mi fido neanche di wellkeeper, quindi ho preso di tu. Va bene, audio, audio. Non perdere in quella maniera. Per meme. No, non per meme. Per fatti. Non diciamo troiate wellkeeper. Suudato. No, l'ho guardato, ok. No, l'ho guardato, ok. No, l'ho guardato. No, l'ho guardato. merda che tensione ho visto un caffì va muovì